buonasera quella che presento è una introduzione alle religioni del mondo in altre lezioni ho parlato in maniera specifica del cristianesimo dell'islam dei testimoni di geova di altre religioni questa è una lezione introduttiva sulle religioni del mondo in questa seconda parte vedremo le religioni presenti in italia e inizieremo il capitolo numero 3 i principali luoghi di culto di roma vediamo adesso quali sono le religioni presenti in italia la religione più diffusa in italia è il cristianesimo i cristiani in italia sono circa 78 per cento le statistiche variano da un 75 a un 80 per cento il gruppo cristiano più diffuso è quello cattolico sappiamo che i cristiani sono divisi in diverse confessioni o denominazioni cattolici protestanti ortodossi anglicani il gruppo dei cattolici è quello più numeroso in italia i cattolici sarebbero il 75 per cento degli italiani e quindi circa 45 milioni la statistica che state guardando è del 2017 mostra quali sono i gruppi religiosi più diffusi in italia considerate che in questa statistica i cristiani non vengono considerati tutti insieme ma ogni denominazione cristiana è considerata separatamente al primo posto abbiamo i cattolici 45 milioni al secondo i musulmani 2 milioni al terzo i cristiani ortodossi con un milione 8 quarto posto protestanti 700 mila poi buddisti al quinto testimoni di geova al sesto settimo induisti ottavo ebrei quindi secondo questa statistica gli ebrei sarebbero 35 mila i mormoni in italia sono al nono posto con 24 mila unità i sikh decimo posto 17 mila i bai all'undicesimo e poi altri gruppi quindi questi sarebbero i gruppi religiosi più diffusi in italia statistica del 2018 mostra le minoranze religiose fra i cittadini italiani quindi questa statistica prende in considerazione soltanto gli italiani non gli stranieri gli immigrati stranieri che vivono in italia come vedete al primo posto ci sono i protestanti quindi minoranza religiosa vuol dire tolta chiaramente il gruppo tolto il gruppo dei cattolici i protestanti italiani sono circa 476 mila testimoni geo al secondo posto 411 mila musulmani poi ortodossi buddisti induisti ebrei mormoni eccetera statistica del 2018 a quale comunità religiosa appartengono soprattutto gli immigrati italiani al primo posto abbiamo i musulmani il 32 per cento degli immigrati presenti in italia sono di religione islamica al secondo posto abbiamo i cristiani ortodossi 29,6 per cento al terzo i cattolici con 17,8 per cento poi ati agnostici protestanti induisti buddisti altre religioni orientali religioni tradizionali altri cristiani ebrei eccetera quindi parlando degli immigrati i gruppi più numerosi sono musulmani ortodossi e cattolici la religione da più anni presente in italia è l'ebraismo gli ebrei arrivano in italia intorno al secondo secolo avanti cristo l'ebraismo arriva in italia prima del cristianesimo perché il cristianesimo è stato fondato dopo l'ebraismo in sintesi parlando delle religioni presenti in italia bisogna almeno ricordare questi dati uno la religione più diffusa in italia è il cristianesimo i quattro gruppi religiosi più diffusi sono primo posto cattolici al secondo i musulmani al terzo i cristiani ortodossi al quarto i cristiani protestanti il gruppo religioso più diffuso tra gli immigrati in italia è quello dei musulmani e la religione da più anni presente in italia è l'ebraismo continuiamo questa introduzione alle religioni del mondo dopo aver visto le statistiche sulle religioni e quali sono le religioni presenti in italia andiamo adesso a esaminare i principali luoghi di culto di roma prima di andare a vedere quali sono i principali luoghi di culto di roma ripassiamo il significato di alcuni termini allora il luogo di culto dei cristiani si chiama chiesa il luogo di culto degli ebrei invece viene chiamato sinagoga o tempio moschea è il termine invece che usano i musulmani tempio è il termine usato dai buddhisti il luogo di culto degli induisti è chiamato tempio anche i sikh usano il termine tempio tempio sikh termine che viene usato anche dai mormoni invece i testimoni di geova usano l'espressione sala del regno dei testimoni di geova allora innanzitutto c'è chi dice che roma sia la città con più chiese al mondo io ho trovato una statistica secondo la quale a roma ci sarebbero circa 900 chiese di cui 337 parrocchie cattoliche quali sono le principali chiese cattoliche di roma? sono le cosiddette basiliche papali sono quattro sono la basilica di san pietro in vaticano la basilica di san giovanni in laterano la basilica di santa maria maggiore e la basilica di san paolo fuori le mura queste quattro chiese chiamate basiliche o basiliche papali sono le chiese più importanti di roma e d'italia e possiamo anche aggiungere d'occidente basilica papali fa riferimento al fatto non soltanto che sono molto importanti ma anche al fatto che hanno nel loro interno un altare papale cioè un altare dove soltanto il papa può celebrare la messa o un suo delegato quindi ci vuole l'autorizzazione del papa per celebrare la messa invece la basilica di san lorenzo fuori le mura non è più una basilica papale dalla metà del XIX secolo queste basiliche papali sono anche chiamate basiliche maggiori sono quattro appunto invece abbiamo altre due basiliche chiamate minori le quali si trovano entrambe ad Assisi e sono la basilica di san francesco d'Assisi e la basilica di santa maria degli angeli dove si trova la basilica di san giovanni come vedete da questa immagine si trova al centro di roma vediamo meglio ecco la basilica di san giovanni laterano siamo a roma vedete qui c'è il colosseo questa è piazza vittorio e manuele e questa è la stazione termini la basilica di san giovanni laterano venne costruita all'inizio del quarto secolo dopo cristo e venne consacrata nel 324 o secondo altre fonti nel 318 guardate questa immagine è una pubblicazione del 1864 ora vi fa capire che quando al tempo dell'imperatore costantino venne nel quarto secolo dopo cristo costruita la basilica questa zona non era una zona centrale di roma ma era una zona periferica la basilica viene costruita da costantino nei cosiddetti orti di quelli che un tempo erano i possedimenti della famiglia dei laterani ora qui c'erano praticamente dei campi degli orti di una famiglia i laterani questa proprietà divenne poi dell'imperatore costantino il quale a un certo punto donò questo terreno al vescovo di roma la basilica di san giovanni in laterano in realtà ha un nome ben più lungo infatti il nome completo della basilica sarebbe arci basilica papale del santissimo salvatore e dei santi giovanni battista ed evangelista in laterano spieghiamo un po' questo nome arci basilica perché è la più importante delle quattro basiliche papali maggiori di roma è la basilica più antica e importante d'occidente questa basilica comunemente viene anche definita come madre e capo di tutte le chiese poi il nome è dedicata al santissimo salvatore cioè a gesù e ad altri due santi san giovanni battista e san giovanni evangelista cioè l'autore del vangelo c'è da dire che all'inizio questa basilica era dedicata soltanto al santissimo salvatore infatti papa silvestro primo nel quarto secolo la dedicò al santissimo salvatore cioè a gesù poi papa sergio terzo nel nono secolo aggiunse la dedica a san giovanni battista infine papa lucio secondo nel dodicesimo secolo incluse anche san giovanni evangelista perché è chiamata in laterano perché la basilica sorge su un possedimento che apparteneva a una nobile famiglia romana i laterani e quindi è chiamata basilica di san giovanni in laterano come potete vedere nella foto questa è la basilica a fianco questo è il palazzo lateranense dove ha sede il vicariato di roma poi abbiamo il battistero cioè dove si battezzavano i credenti e qui abbiamo una università della santa sede università lateranense la basilica di san giovanni in laterano fu saccheggiata più volte dai visigoti dai vandali colpita da due terremoti e tre incendi è stata rifatta più volte in questo senso si parla dell'ultima basilica come della quarta basilica c'è da dire che i papi hanno risieduto qui fino al 1305 cioè un tempo il papa non stava in vaticano a san pietro ma fino al 1305 i papi hanno abitato qui a san giovanni in laterano quando nel 1305 il papa con tutta la sua corte si trasferì in Francia ad Avignone e ci restò per una settantina d'anni allora san giovanni non fu più la residenza del papa quando il papa ritornò dalla Francia non continuò ad abitare a san giovanni ma iniziò a risiedere in vaticano anche perché il vaticano era maggiormente difendibile da un attacco oggi la basilica di san giovanni in laterano e alcuni edifici limitrofi come il palazzo lateranense il seminario l'università lateranense godono dei privilegi di extraterritorialità cosa vuol dire? vuol dire che praticamente fanno parte di un altro stato non sono territorio italiano ma appartengono allo stato o città del vaticano infatti quando nel 1929 lo stato italiano e lo stato città del vaticano firmarono quelli che sono chiamati i patti lateranensi furono riconosciute alcune zone al di fuori del vaticano alla santa sede e tra queste zone c'era anche la basilica di san giovanni in laterano e questa è la famosa facciata della basilica ad opera di alessandro gailei è della prima metà del diciottesimo secolo vedete in cima abbiamo le statue del santissimo salvatore al centro cioè gesù di giovanni evangelista giovanni battista e di altri santi dottori della chiesa questa è la pianta della basilica è una pianta a croce latina che si differenzia dalla croce greca la croce greca è una croce in cui i due legni della croce hanno la stessa lunghezza invece nella croce latina l'asse verticale più lungo di quello orizzontale è una basilica a cinque navate una navata centrale più larga due navate a sinistra due a destra il transetto con al centro l'altare papale dietro il presbiterio dove c'è il coro dove siedono i presbiteri cioè i sacerdoti dietro il presbiterio l'abside dove si trova vedremo la cattedra del papa più indietro sulla destra abbiamo il battistero l'antico battistero cioè l'edificio dove si battezzavano i credenti invece vedete con la F è indicata la facciata questo è l'interno della basilica in primo piano la navata centrale due navate a sinistra e due navate a destra c'è da dire che nella basilica di San Giovanni il Laterano sono sepolti diversi cardinali e anche alcuni papi quest'immagine mostra in primo piano il presbiterio cioè lo spazio dove siedevano i presbiteri cioè i sacerdoti in fondo abbiamo l'abside per vedere nell'abside c'è la cattedra papale che cos'è la cattedra? il termine cattedra deriva dal greco e significa luogo su cui ci si siede in una chiesa cattolica la cattedra vescovile è la sedia del vescovo è la sede del vescovo quando infatti una chiesa è chiamata chiesa cattedrale vuol dire che in quella chiesa c'è un vescovo che ha la sua cattedra ora la cattedrale di Roma non è la basilica di San Pietro ma è la basilica di San Giovanni il Laterano abbiamo infatti detto che anticamente il papa risiedeva a San Giovanni il Laterano e quindi quella che state guardando è la cattedra del papa o vescovo di Roma al centro del transietto potete vedere il baldacchino o ciborio eccolo qui questa struttura che sovrasta l'altare papale si chiama baldacchino un baldacchino all'interno di una chiesa prende il nome di ciborio volevo soffermarmi un po' sulla parte superiore guardate all'interno di questa diciamo gabbia di legno ci sono dei reliquiari dove la tradizione dice che sono conservate le teste degli apostoli Pietro e Paolo ora è una tradizione che indica che all'interno di due reliquiari ci siano le teste dei due apostoli in realtà è poco probabile che siano i resti proprio delle teste di questi due santi inoltre le guide spesso indicano che sempre qui all'interno di questo ciborio vi è anche un frammento della tavola su cui celebrò San Pietro che non sarebbe altro che appunto una parte della tavola dove Gesù avrebbe consumato l'ultima scena con gli apostoli ma anche qui siamo di fronte a una leggenda medievale al centro della foto sotto il ciborio c'è l'altare papale abbiamo già detto altare papale all'interno delle basiliche papali vi è un altare dove soltanto il pontefice può celebrare la messa qualsiasi altro presbitero deve comunque avere l'autorizzazione del papa davanti al ciborio e all'altare papale questo spazio chiamato confessione ospita il sepolcro di un papa di papa Martino V San Giovanni rappresenta il primo atto dell'architettura paleocristiana Costantino costruisce questa chiesa cristiana nei possedimenti imperiali lontano dal centro della città perché non vuole turbare l'equilibrio di una città ancora profondamente legata ai suoi riti pagani durante il medioevo la basilica venne abbandonata tanto che il Petrarca a un certo punto ricorda come la chiesa di San Giovanni la madre di tutte le chiese era in crisi con il tetto scoperto fu Innocenzo X a pensare a una ricostruzione di San Giovanni a Borromini Innocenzo X pose come problema quello di mantenere la struttura dell'antica chiesa e di racchiuderla in una nuova struttura come se fosse un reliquiario la basilica di San Giovanni ebbe un momento di grande importanza di centralità rispetto alla cultura architettonica quando si pensò a realizzare la facciata che Borromini non era riuscito a costruire quella principale questa facciata fu messa a concorso perché non fu possibile trovare i disegni originali di Borromini ci fu una lunga discussione e vinse un outsider questo Galilei che presentò un'opera grandiosa che noi oggi unanimemente ammiriamo in cui elementi barocchi si fondono con elementi classici Galilei seppe creare un magnifico compromesso tra l'atmosfera ancora barocca della città con l'aspirazione a un nuovo ordine che era in contrasto con la rivoluzione operata da Borromini la terza basilica papale di cui vorrei parlarvi è la basilica di San Paolo fuori le mura guardate dove è situata questa basilica sorge lungo la via Ostiense nell'omonimo quartiere vicino alla riva sinistra del Tevere questa è la basilica questa è la via Ostiense è Coltevere e vedete siamo nel quartiere Ostiense perché è chiamata basilica di San Paolo fuori le mura perché si trova questa basilica circa due chilometri fuori dalle antiche mura di Roma le mura aureliane siccome a Roma c'è un'altra chiesa dedicata allo stesso santo per distinguere le due chiese questa è chiamata basilica di San Paolo fuori le mura portate questa immagine qui c'è la basilica di San Paolo fuori le mura così chiamata perché è il luogo dove sarebbe stato sepolto l'apostolo Paolo a tre chilometri di distanza sulla via Laurentina c'è oggi l'abbazia delle tre fontane San Paolo secondo la tradizione cristiana sarebbe stato ucciso decapitato qui e sarebbe stato sepolto appunto a tre chilometri circa di distanza nel luogo dove oggi sorge la basilica la basilica di San Paolo fuori le mura è quindi una delle quattro basiliche papali di Roma tra l'altro è la seconda più grande dopo quella di San Pietro in Vaticano guardate l'immagine questa è la basilica pianta a croce latina con un quadripordico questa è la via Ostiense e qui c'è un monastero benedettino l'abbazia di San Paolo fuori le mura quindi secondo la tradizione San Paolo venne sepolto in questo punto e l'imperatore Costantino fece costruire sopra la tomba di San Paolo una prima basilica basilica che venne consacrata nell'anno 324 dopo Cristo durante il pontificato di Papa Silvestro I ma questa basilica risultò subito piccola per accogliere tutti i pellegrini che venivano a visitare la tomba del Santo e quindi venne ricostruita completamente già nel 391 e vedremo poi che un incendio nel 1823 distrusse gran parte della basilica ricordo inoltre che la basilica gode del beneficio dell'extraterritorialità della Santa Sede l'ho già spiegato quando lo Stato italiano firmò i patti latiranensi con la Santa Sede del 1929 lo Stato italiano diciamo cedette allo Stato del Vaticano non soltanto la città del Vaticano ma anche altri territori all'interno di Roma e quindi anche la basilica di San Paolo fuori le mura praticamente non appartiene allo Stato italiano appartiene alla Santa Sede quindi l'antica basilica è del IV secolo ma nel 1823 a causa di un disastroso incendio gran parte di essa venne distrutta guardate questo disegno ecco cosa rimaneva della basilica dopo questo incendio diciamo che si salvarono alcune parti della basilica il transetto il ciborio l'abside l'arco trionfale il chiostro il candelabro e parte delle navate c'è da dire che quando la chiesa dopo il 1823 venne totalmente ricostruita coloro che si adoperarono per questa ricostruzione seguirono fedelmente l'architettura dell'antica basilica costantiniana di modo che tra le quattro principali basiliche romane quella di san paolo è quella che maggiormente richiama la forma della basilica iniziale questa immagine mostra il quadriportico e la facciata la facciata che è stata ricostruita dopo l'incendio del 1823 i mosaici che sono presenti oggi sulla facciata sono stati eseguiti tra il 1854 e il 1874 e per quanto possibile sono la copia di quelli che c'erano nell'antica basilica cosa rappresentano questi mosaici in basso abbiamo quattro profeti dell'antico testamento Isaia Daniele Geremia e Zecchiere nella striscia di sopra abbiamo l'agnello di Dio metafora di Gesù da cui sul monte del paradiso da cui sgorgano quattro fiumi che simboleggiano i Vangeli nei quali si dissetano dodici agnelli che sarebbero i dodici apostoli ancora più sopra nel timpano Gesù nell'atto di Benedire e a sinistra San Pietro e a destra San Paolo ecco la pianta della basilica di San Paolo fuori le mura questa basilica è a cinque navate non presenta cappelle laterali ecco il quadriportico questo spazio delimitato da quattro portici al centro vi è la statua di San Paolo che viene raffigurato con la spada in mano ecco dove si trova la tomba dell'apostolo esattamente sotto l'altare papale altare papale che è sovrastato dal ciborio l'abside e il chiostro quest'immagine mostra la navata centrale della basilica in fondo vedete l'arco trionfante con Gesù all'interno di un cerchio sotto si intravede il ciborio o baldacchino potete notare sulle pareti delle navate i famosi tondi contenenti i ritratti dei papi infatti nella fascia immediatamente sopra gli archi che dividono le navate vi è la serie dei tondi contenenti i ritratti di tutti i pontefici tutti i papi da san pietro fino a papa francesco ecco infatti vedete questo è l'ultimo ritratto quello di papa francesco realizzati con la tecnica del mosaico e su sfondo oro furono iniziati nell'anno 1847 diciamo però che quindi questi tondi sono recenti perché sono stati realizzati dopo la ricostruzione del 1823 quella dovuta all'incendio ma erano già presenti nell'antica basilica in fondo alla navata centrale sopra l'altare papale vi è questo arco trionfante su cui vediamo Cristo chiamato Pantocratore all'interno di una circonferenza da cui escono dei raggi alla sua sinistra e alla sua destra i simboli dei quattro evangelisti il bue di Luca l'angelo di Matteo l'aquida di Giovanni e il leone di Marco sotto abbiamo 24 uomini anziani e sotto ancora da una parte San Pietro dall'altra invece San Paolo in fondo vedete nell'abside anche qui abbiamo al centro la figura di Gesù Cristo ecco invece l'altare papale e il ciborio cioè il baldacchino ecco l'altare papale con sopra con sopra il ciborio dinanzi all'altare maggiore vi è la confessione posta a una quota più bassa rispetto alla navata centrale e accessibile tramite due scale in marmo questa è la confessione è un elemento presente in altre basiliche papali a San Pietro a San Giovanni anche a Santa Maria maggiore attraverso due rampe di scale si scende in un livello sottostante e vedete qui ci sarebbero i resti dell'apostolo Paolo quindi la tomba di Paolo si troverebbe esattamente sotto l'altare papale questa foto mostra l'interno della confessione quindi siamo al di sotto del livello del pavimento della navata centrale qui c'è il sarcofago contenente i resti di San Paolo qui abbiamo invece i resti dell'antico abside della basilica costantiniana bisogna ricordare che nel 2009 Papa Benedetto XVI fece eseguire una ricognizione della tomba dell'apostolo e attraverso una sonda gli esperti trovarono frammenti di ossa grani di incenso un lino laminato d'oro insomma la ricognizione effettuata nel 2009 ha confermato che questo è il luogo dove è stato sepolto l'apostolo Paolo quella catena invece che vedete qui in alto ecco un particolare è una reliquia collegata alla prigionia di Paolo secondo la tradizione infatti una catena legava l'apostolo Paolo al soldato romano che ne assicurava la guardia durante la sorveglianza domiciliare in attesa del suo processo ricordo che San Paolo come San Pietro sarebbe stato ucciso dai romani durante la persecuzione seguita al grande incendio di Roma dell'anno 64 dopo Cristo e San Paolo sarebbe morto tra il 64 e il 67 la tradizione cristiana racconta che Paolo venne sepolto lungo la via Ostiense grazie all'intervento di una donna la matrona Lucina la quale permise la sepoltura di Paolo all'interno di una sua proprietà e come ho già detto qui se qui venne sepolto Paolo venne ucciso decapitato a 3 chilometri di distanza da qui sulla via Laurentina f a a a a a a a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.